Siamo con il Presidente del Comitato Organizzatore per questi campionati nazionali cadetti giovani di scherma, signor Lucio Martina. Allora, finalmente questi campionati sono in dirittura d'arrivo? Sì, questi campionati hanno avuto una fase molto lunga di preparazione. Dobbiamo conservare ancora una piccola riserva di energia per portare a termine l'evento che sarà abbastanza lungo, durerà tre giorni e quindi avremo un impatto totale con l'intera compagine dello sport che si presenterà qui a Lecce con un amore di atleti e di persone abbastanza vasta. Quanto è stato difficile e soprattutto faticoso nell'organizzazione questo evento così importante per il Salento? Esatto, in un contesto del genere in cui abbiamo un commissariamento ci ha dato l'opportunità di conoscere delle persone differenti dalla politica e abbiamo avuto fortuna nel trovare delle persone molto rispondenti e le nostre esigenze ci hanno dato il massimo delle loro energie a tal punto che siamo riusciti a operare nell'ambito dell'organizzazione in maniera diretta e operativa e ci hanno portato dritto agli obiettivi che ci eravamo prefissati. Siamo col Presidente nazionale della Scherma, Presidente Giorgio Scarso. Allora, Presidente, questa è la prima edizione qui a Lecce di questi campionati nazionali crede che ce ne saranno delle altre che sia faccia da volano per le prossime annate oppure è un caso singolare? Ma, guardi, la politica della Federazione della Scherma è quella di coinvolgere tutto il territorio nazionale. Laddove si svolge un evento e questo viene organizzato in linea con le aspettative viene ad essere un'occasione anche di ospitalità dove la gente che verrà si troverà sicuramente bene si creano le condizioni per future appuntamenti questo non vuol dire che noi il prossimo anno porteremo le Olimpiadi a Lecce ma vorrà dire che Lecce si entrerà nel circuito delle gare che annualmente la Federazione organizza che per la cronaca sono 54 appuntamenti in 54 appuntamenti sicuramente il sud dell'Italia il Salento potrà trovare spazio sempre che l'organizzazione sia in linea con le aspettative sempre che l'accoglienza sia in linea con le possibilità come devo dire di carattere di accoglienza con un'attenzione a non toccare e ritoccare i prezzi degli alberghi perché in certi casi determinate occasioni non vengono colte per promuovere ma per sfruttare sfruttare un determinato momento questo sarebbe deleterio pertanto mi auguro che il contesto socio-economico locale commerciale di accoglienza colga l'occasione per fare un investimento affinché la gente possa tornare affinché la gente possa dire a Lecce si è organizzato un grande evento e per conseguenza la Federazione si troverà nella condizione di poter organizzare altri eventi in questo contesto geografico che di per sé è straordinario però un conto è l'aspetto esclusivamente turistico altro è quello tecnico io sono convinto che gli organizzatori faranno di tutto per rendere da un punto di vista tecnico l'appuntamento assai gradito al mondo della scherma e per conseguenza poter rispondere alla sua domanda affermativamente se queste condizioni si porranno all'attenzione di chi verrà a Lecce in occasione del campionato credente giovane